grazie mille grazie mille marco allora questa sera parliamo di questo tema l'impatto della sicurezza su devops già l'immagine di presentazione è un po particolare poi capiremo presto perché il mio nome è giulio vian ok lavoro in irlanda poi due parole su cosa sono e cosa faccio però andiamo subito nel caldo del tema di questa sera ok che per qualche ragione questa strana barra non suole andarsene giù ce la terremo un po così stasera parliamo della cambiamento che c'è stato da un lato su quello che si offre sulla piattaforma sulle piattaforme che permettono di implementare delle varie pratiche devops ma dall'altro anche su come l'it in generale è cambiato per un cambiamento ambientale dove il cambiamento ambientale non sto parlando del cambiamento climatico e di queste cose qua ma di qualcosa proprio specifico del software di come il fare software sta cambiando e di quali condizionamenti esterni noi stiamo subendo in questi anni e questa pressione come vedete qua è sempre più forte e ci spinge a cambiare i nostri processi questi cambiamenti ci portano a cambiare non solamente come sviluppiamo il software ma anche a monte di questo come lo progettiamo come lo pianifichiamo come lo stimiamo e quindi parliamo di budget parliamo di finanza parliamo di queste cose qua c'è una cosa che non era mai emersa chiaramente prima si parlava di debito tecnico si parlava di altre cose del genere secondo me c'è un fenomeno nuovo in atto di cui è bene che prendiamo coscienza e su cui andiamo ad intervenire e a prevenire e la chiamo inflazione l'inflazione tecnica le conseguenze dell'inflazione tecnica sono che sostanzialmente mentre prima noi consideriamo un pezzo di software come qualcosa di fatto e finito famoso funziona perché vai a toccarlo non non cambiare le cose che funzionano invece oggi come oggi ci troviamo a dover continuamente mettere mani al software che già funziona buono così com'è perché altrimenti decade qui ho fatto l'esempio di un frutto che marcisce non dobbiamo fare niente perché marcisca è una cosa che avviene naturalmente e così altrettanto sta succedendo al nostro software mentre prima c'era dei fenomeni di logorio o dei fenomeni di rinnovamento facciamo sempre queste immagini dell'architetto della casa delle mura ogni tanto ridai la malta alle pareti ridai le pittura rifai gli impianti ma sono cose di una certa consistenza che fai ogni tanto ogni morte di papa si diceva no? e invece qua se prendi l'analogia di un elemento naturale come un frutto come un fiore marcisce naturalmente devi prevenire il suo decadimento quindi oggi parleremo di sicurezza di DevOps però siccome sono entrambi temi amplissimi oggi non parleremo di tutta una serie di cose di sicurezza do per scontato che ne abbiate un minimo di contezza ma non parleremo né di scansioni del software dinamiche non dinamiche sonde all'interno del software tutte tecniche di sicurezza più o meno interessanti o di gestione delle password tantissime belle cose ci focalizzeremo soltanto su temi di produzione del software di SDLC software development life cycle quindi il ciclo di vita del software di quel tipo di argomenti lì allora chi sono io? Giulio Vian l'abbiamo già detto lavoro in Unum che è una assicurazione statunitense benché lavoro in Irlanda per la filiale diciamo così e sono un principal engineer il mio manager ha voluto mettere il titolo DevOps ma vabbè contento tu ho lavorato in diverse aziende prima nomino qua l'artel perché appunto è stata la mia prima busta paga e qualcuno magari la ricorderà stanno in provincia di Vicenza e poi varie altre dopo l'esperienza Microsoft da un bel po' di anni sto lavorando all'estero e ho lavorato in diverse aziende adesso qua in Irlanda da alcuni anni Microsoft MVP eccetera lì ci sono i miei riferimenti su Twitter o la mail se desitate scambiare qualche cosa, qualche idea per abitudine io pubblico sempre tutte le slide una volta terminato l'evento su SlideShare quindi le troverete lì se siete interessati a qualcosa e quest'oggi ho anche quattro pagine di link a articoli, report, documentazione varia pertinente all'argomento di questa sera quindi questa sera parliamo prima di DevOps Security una breve introduzione generale e di alcuni problemi tipici che stanno emergendo poi perché la cosa può impattare voi come potete discuterne all'interno della vostra azienda gli effetti che potrà avere e via di questo passo dopodiché chiudiamo con un breve ripasso quindi partiamo con la relazione tra DevOps e Security con alcune nozioni di base la prima è che cos'è DevOps e qua mi spiace devo spendere due parole è per il semplice fatto che ci sono tantissime definizioni di DevOps per lo più sbagliate alcune abbastanza accettabili Microsoft è l'unione di gente, processi e strumenti sì, vabbè, vuol dire tutto, non vuol dire niente io preferisco questa dal famoso DevOps Handbook che secondo me è il testo di riferimento per chiunque voglia occuparsi di questi argomenti di DevOps devi passare di lì è un libro scritto a quattro mani ed è appunto il risultato di applicare i principi Lean proprio quelli dell'industria automobilistica dei Toyota e di tutte quelle prospettive di gestione del lavoro applicate dove? allo flusso di valore tecnologico al technology value stream quindi dovunque ci sia tecnologia non solo IT è più ampio dell'IT perché include per esempio cose come call center o applicazioni mobile richiude un po' più dell'IT value stream quindi stiamo parlando di valore perché l'IT oggi è una componente essenziale per portare valore alle aziende oggi come oggi l'abbiamo visto poi in questi ultimi due anni se non hai una presenza online dove poter entrare a contatto con i tuoi clienti difficilmente soprattutto se sei rivolto al mondo degli utenti finali non rivida nessuna parte e ci sono tre gli autori lì hanno descritto tre tre vie perché non sono proprio tre fasi non è un modello di maturità perché diciamo tu le percorri tutte poi ritorni e riprendi e rimigliori e continui e continui in un'ottica di miglioramento continuo ed è appunto la prima pensare in modo olistico in modo integrale tutto un intero sistema tutto il flusso che parte dal la necessità del business e arriva ai tuoi clienti finali è che necessariamente transita da una parte fatta dagli sviluppatori perché devono tradurre in pratica quello che il business ha bisogno di vendere commerciale commerciale supportare eccetera e l'operation con le loro specialità con le loro esperienze di sicurezza eccetera tengono in piedi però bisogna avere anche un ciclo di ritorno perché chi fa le operazioni si rende conto di problemi che ci sono nel software perché c'è bisogno che il business abbia una visione chiara in tempo reale di cosa sta succedendo nei canali di vendita nei canali di supporto nei canali con cui entrano in contatto i clienti e poi questo deve diventare una learning organization dicono una continua sperimentazione non è un continuo apprendimento ma andiamo avanti la pratica di DevOps non è esattamente così idilliaca ovviamente le cose non sempre vanno nel migliore dei modi quello che io ho trovato nella mia esperienza è che alcune cose le trovi in azienda e poi c'è ancora tanto lavoro tanto lavoro da fare tanta cultura da migliorare ed è la ragione per cui su cui mi sto concentrando in questo periodo migliorare tutte le cose ci sono delle aree dove siamo forti delle aree dove c'è ancora tanto da fare ok piccolo giochino piccolo esperimento adesso vi do due minuti due inquadrate col cellulare questo QR code oppure andate sul sito www.menti.com e inserite il codice 7100 9294 oppure se ce la fate non so se il sistema lo permette questa è l'url che direttamente vi porta al quiz io lo faccio con voi così vedete che cosa dovete aspettarvi vai scusate adesso si aprirà nel browser e vi trovate un quiz del genere così mi date delle idee su questa serata che sul telefono può essere organizzata diversamente e via dicendo sono 3-4 domande giusto per scaldare la serata forse che avete un altro un altro minutino a vostra disposizione per per completarlo ecco nel frattempo io chiacchiero un po' in modo da distrarvi un po' le domande sono appunto su come viene vista la sicurezza come viene vista la qualità all'interno delle vostre organizzazioni parlo di organizzazione è perché qualcuno di voi non lavora in azienda in un'azienda ma lavora nella pubblica amministrazione oppure lavora nel terzo settore le possibilità sono tante organizzazione intende qualsiasi ente che sia vostro datore di lavoro chi lavora per i sindacati non sono aziende ma ecco alcune cose che fate avete un'assicurazione non ce l'avete cosa fate in caso di di ecco in caso di attacco queste sono un po' le alcune delle domande che cercheremo di indirizzare questa sera va bene tempo scaduto poi dopo vedremo che cosa abbiamo raccolto immaginiamo di essere in una situazione ideale avete finalmente finito la vostra applicazione l'avete portata in produzione tutti i test che avete fatto non hanno identificato alcun problema riguardo alla sicurezza l'avete usato non so sonar cloud e vi siete fatti una bella scansione del codice avete fatto andare tutti i wizard del vostro cloud provider avete fatto tutte queste belle analisi e avete risolto uno per uno tutti i problemi che avevate individuato la vostra bella applicazione java parliamo di java stasera la vostra bella applicazione spring funziona perfettamente non ha nessun problema e il giorno dopo viene fuori la classica novità il problema log4j eccetera eccetera e vi ritrovate con con questa simpatica novità e il vostro software non è più sicuro se ci riflettiamo un attimo voi non avete fatto nulla il sistema operativo è a posto non vi manca una patch del sistema operativo quello che è diventato un problema è una libreria che utilizzate nella vostra applicazione ecco a cosa a cosa mi riferisco quando alludo al fatto che ci sono delle pressioni dall'esterno che comportano una novità come approcciamo il software perché non è mai più finito perché attorno cambia e crolla potrei andare avanti qua con tantissimi esempi log4j è l'ultimo ma chi ha presente la volatilità delle versioni nel mondo npm javascript e typescript chiamatelo come volete lì per esempio c'è un cambiamento continuo e non sto riferendomi al fatto che al framework du jour il oggi è react l'altro giorno l'altro giorno blanking out no ok domani è view jes continuano a cambiare no non mi riferisco a quello mi riferisco al fatto che voi fate npm install su una macchina oggi fate npm install su un'altra macchina domani e vengono giù delle versioni diverse perché nel frattempo l'ecosistema l'ambiente da cui la vostra applicazione dipende è cambiato questo è quello che sta succedendo e il risultato di ciò che voi dovete gestire poverini tocca a voi siete voi quelli che fate il software che vi occupate del sia i cd del processo di patchare le applicazioni come funziona il tipico lavoro per fare una patch di un'applicazione beh prima di tutto c'è un segnale esterno la pubblicazione di questa cosa a volte sui giornali a volte per lo più c'è un aggiornamento del database delle vulnerabilità su cui si base il vostro strumento con cui analizzate il codice l'esistenza di questa cosa dice oh dobbiamo andare in cerca di questo problema qua va in cerca del problema gli sviluppatori mettono a posto il codice e rilasciate di nuovo ok notate quanti passi manuali ci sono bisogna sapere che c'è stato un cambiamento c'è un atto volontario di andare a fare la scansione della sicurezza del codice un atto volontario di andare a patchare la versione per prendere le nuove versioni delle librerie con finalmente le fix se ci sono e avanti di questo e rilasciare e anche questo è un atto esplicito trovare il codice trovare il codice potrebbe essere una cosa assai complicata mettiamo il caso di un'applicazione che sta tutta all'interno di un singolo repository un singolo git repository qual è il branch che devo considerare ho messo una tag che è esattamente la versione che ho in questo momento in produzione non un mese fa o quella che sto preparando devo avere queste cose belle in ordine belle già pronte se no sono nei guai perché vado a riparare una versione che non è quella che ho in produzione gli strumenti appunto di di analisi del codice in questo caso SCA software composition analysis vanno ad analizzare che cosa tutte le dipendenze del vostro codice quindi TNPM tutto l'albero delle dipendenze se per Java le dipendenze maven se per dotnet le dipendenze nugget e avanti di questo passo questi strumenti qua sono generalmente multilinguaggio e multipiattaforma e se non altro vi individuano che cosa dovete andare a sistemare però dovete dirgli voi su quale versione andare a cercare il problema è che poi magari se avete tanto codice potreste avere qualche vecchia versione e la build non funziona più e quindi di altro lavoro manuale per mettere a posto queste cose generalmente quando c'è un problema di sicurezza rilasciato in uno dei tanti database c'è una cvi c'è un annuncio pubblico di queste vulnerabilità potrebbe trovarsi a livello di librerie che l'applicazione usa direttamente o indirettamente potrebbe trovarsi a livello di sistema operativo quindi ci vuole una patch del sistema operativo potrebbe trovarsi nel runtime dell'applicazione quindi il dotnet core il node js potrebbe essere il la jvm a questo livello qua quindi sono questi gli elementi che dovete individuare quindi a seconda di cosa è rotto dovete andare a applicare la patch corrispondente su quel pezzo lì il che significa che dovete essere pronti non solo a ricompilare le applicazioni ma essere anche pronti a rilasciare le patch agli altri livelli e se usate docker se avete impacchettato le vostre applicazioni in docker significa che il runtime e un pezzettino del sistema operativo sono dentro l'immagine docker quindi dovete ribildare ricompilare l'immagine docker o ripigliandone una fresca o patchando quella che voi state controllando quali sono gli strumenti che vi aiutano in questo contesto appunto accennavamo prima gli strumenti di analisi statica ma questi lavorano soltanto sul codice della vostra applicazione e possono magari beccare che non controllate un input di una forma che un API accetta un input senza limitarne la lunghezza queste cose qua ve le beccano e magari lo passate giù fino al database ci vuole un altro genere di strumenti quelli appunto software composition analysis che vi vanno a guardare le librerie il runtime quindi il jvm il nojs il runtime dot net eccetera eccetera e infine ci sono quelle a livello di di sistema operativo e lì sono già dei tool più più specializzati ce ne sono di commerciali quante ne volete c'è qualcosa anche nell'ambito open source c'è qualcosa da parte di OWASP qualcosa come NPM NPM Audit qualche cosina potete fare anche con dell'open source però è importante che abbiate vi state strutturate che se no questa cosa qua non siete in grado di realizzarla tra le cose che potete pensare appunto è di se non siete ancora passati a git passate tutti a git ok fatelo con uno strumento server che abbia delle API sufficienti perché potete dover applicare la stessa medicina a più di un'applicazione il che è abbastanza probabile perché di solito un'azienda punta su un determinato stack tecnologico quindi c'è l'azienda .net dove l'80% del software è scritto per quel runtime lì un'azienda java l'80% è scritto in java poi c'è anche javascript c'è anche altre cose però e quindi è facile che voi abbiate una batteria di applicazioni da dover manutenere e quindi dovete fare delle scansioni non relative a un singolo repository ma più di uno e se avete delle API per far partire queste automazioni è molto meglio così come avere degli standard qual è la versione che è adesso in produzione se lo strumento vi dà disposizione degli ulteriori metadati che voi potete gestire e maneggiare per conto vostro questo vi permetterà una futura automazione di questi processi di questi processi di patching del codice e appunto quando avete tanti repository questo questo diventa interessante addirittura anche tanti tipi di fix possono essere automatizzate il caso più frequente è siete dipendete da una libreria c'è fuori la versione patchata della libreria che non è più soggetta alla vulnerabilità vi basta aggiornare il file di progetto relativo con la versione aumentata o addirittura ricompilarlo se avete dei legami di versione LASC delle regole di versione LASC quindi il csproj per dotnet il pomxml per java per maven più precisamente e avanti di questo passo il package json nel caso npm e fratelli e così via è importante però abbiate dei regression test perché voi state comunque cambiando qualcosa la versione della libreria e potrebbe rompere qualcos'altro quindi senza regression test se qualcuno vi chiede ma che cosa stai a scrivere test ecco questa è una buona ragione per il giorno in cui devi rilasciare una patch veloce perché c'è qualche dramma mondiale come log4j e voi dovete essere tranquilli che ancora le cose funzionano nello scenario in cui avete tutto il codice dentro un unico repository avete una singola pipeline nel senso che è uguale replicata n volte la cosa è molto più facile però diciamo che è un caso più unico che raro normalmente in azienda ci sono più team che lavorano ci sono più repository perché magari avete più clienti più prodotti avete un portafoglio di prodotti altre ragioni di parcellizzazione di un prodotto per tante ragioni giusto per fare un esempio io mi trovo a dover affrontare qualcosa come 3000 repository sì sono tutti su Azure DevOps però sono 3000 ho 100 team da gestire abbiamo cosa oltre 10 milioni di righe di codice a queste scale non funziona più andare a dire bussare sulla porta di qualcuno e dirgli scusa mi ricompili la tua applicazione che è baccata per esempio il discorso log4j siamo due mesi di lavoro e stiamo finendo adesso giusto per dare l'idea che quando le cose scalano devono qualsiasi soluzione troviate deve essere qualcosa che scali ok quindi non impatta su tutti ma impatta su molti e quindi è bene che abbiate in mente e magari implementato tutte queste informazioni di incrocio tra i vari sistemi che voi possiate avere in utilizzo quindi abbiamo già parlato di tag cose simili per il source control ma normalmente strumenti di compilazione pardon di build automatizzata si ha il cd automatizzato automaticamente registrano la versione del del codice quello che viene a gratis praticamente però per esempio non è così automatico sapere che un pacchetto pieno di binari che stai per rilasciare a quale pipeline l'ha compilato e quale versione del dei sorgenti lo ha compilato è fattibile con gli strumenti moderni è facile non farlo perché non c'è nessuno che ti obbliga quindi è una disciplina che devi avere in essere e così ancora più difficile hai cento pacchetti cento versioni del pacchetto binario della tua applicazione qual è quello in produzione non parliamo poi dei problemi di quelli che devono gestire molte versioni dello stesso pacchetto perché perché il pacchetto è installato presso il cliente e quindi ogni cliente più o meno ha una versione diversa per loro è ancora più complicato quindi se non avete già in essere dei sistemi di metadati che colleghino tutte queste informazioni è bene che li mettiate in pratica quindi una cosa molto semplice che si può arrivare già a fare oggi utilizzare questi strumenti di software composition analysis e una scansione periodica ogni notte avete lo strumento che si riscarica il database delle vulnerabilità e gli fate rifare una scan di tutto il codice un altro elemento fondamentale su cui parleremo un po' di più c'è bisogno che abbiate anche un processo veloce per vi lasciare perché in questo caso non dovete passare attraverso una pull request con un'approvazione manuale e tutto questo genere di cose dovete avere un qualche cosa di veloce perché sono sempre più frequenti i casi di zero day vulnerability cioè i casi in cui da quando è pubblica il problema di sicurezza la vulnerabilità al momento in cui ci sono degli attacchi è il giorno stesso perché l'avevano già scoperto perché erano pronti per tante cose ci sono tantissime ragioni per cui questo tipo di attacchi sta diventando più frequente e con la frequenza diventa sempre più necessario automatizzare tutte queste cose e averle sempre in essere quindi il test automatizzato e il processo di approvazione deve essere particolare non deve essere usato per aggirare i vincoli che ci sono ma deve essere utilizzato per rilasciare solo questo genere di emergenze cioè una patch un rattoppo che serve sordo esclusivamente per fissare una vulnerabilità di sicurezza e questo non vuole avanzare perché è sempre lento ora alzo a partire e quindi dovete avere delle linee veloci di rilascio che non sono la vostra sia e sia di normale oppure potrebbe essere lo stesso script però diciamo con delle condizioni diverse in particolare che abbia il minimo di approvazione manuale e il massimo di automazione possibile perché portate in produzione praticamente a occhi chiusi quindi più è come l'atterraggio strumentale per un aereo migliori sono gli strumenti più ne hai meno hai bisogno di controllare visivamente cosa sta succedendo ok certamente alcuni di voi hanno dei vincoli di tipo regolatorio per chi lavorano o nell'ambito finanziario o nell'ambito sanitario pubblica amministrazione che hanno una serie di requisiti di auditing di controllo necessari in generale sono tutti automatizzabili perché la cosa importante dell'audit è che ci sia la tracciabilità abbiamo visto prima come è importante avere dei metadati una tracciabilità dal sorgente alla produzione se c'è questa tracciabilità in essere la cosa viene abbastanza facile e naturale e va utilizzato solo ed esclusivamente appunto in casi specifici di urgenze limitate quindi in un certo qual modo non tutti possono usarla però magari se avete degli uomini specifichi dove uomini ovviamente in senso generale delle persone specializzate per la sicurezza queste potrebbero rilasciare una versione in produzione senza bisogno dell'intervento degli sviluppatori questo è diciamo un obiettivo ideale però neanche tanto lontano dalla realtà una cosa da considerare è appunto quando avete tante applicazioni o un'applicazione con tanti moduli o tutte queste cose insieme bisogna immaginare quando avete una vulnerabilità che tocca che so l'ottanta per cento del vostro software cosa vuol dire che dovete rilasciare l'ottanta per cento del vostro software tutto in un botto ce l'avete le risorse o avete ancora il vecchio server on premises che è un vecchio Xeon che a malapena non ha respira e non ha ancora tirato le cuoia o avete una build che viene effettuata nel cloud che scala automaticamente quindi potete lanciare 50 pipeline in parallelo e vi ricompila tutto come funziona il vostro processo è importante che possa scalare quando è necessario quindi un'ulteriore ragione per cercare di spostare come software as a service gli strumenti degli sviluppatori questa è un'ulteriore ragione che potete sfruttare in questa direzione e giustificare il movimento l'altra cosa che deve scalare è il meccanismo di approvazione perché se voi avete 50 pipeline e un omino come diciamo noi deve lì cliccare 50 volte non funziona molto bene gliene scappa qualcuna una è andata a finire nello spam e avanti di questo passo quindi anche questo processo va pensato nell'ottica ricompilo eventualmente ricompilo tutto è una sola approvazione per tutto il processo e avanti di questo passo e quindi i tempi perché dovete pensare sempre alla componente più lente e alla cascata di dipendenze perché magari avete che la componente A non la potete compilare finché non è compilata la B che non è fino alla C e quindi avete una coda di compilazioni da soddisfare e tutto questo vi darà un potete definirlo a livello IT in discussione col business quale è l'investimento che vuoi fare quindi in quanto tempo vuoi che io sia in grado di fare una patch in caso di un problema di sicurezza magari vi dicono ma prenditi tutto il tempo che vuoi perché tanto lo facciamo con un'assicurazione non ce ne frega niente se ci bucano poi se vi bucano ne riparliamo alla faccia dell'assicurazione che poi non vorrà mai pagare perché eh no ma tu sei stato negligente ecco e quindi qua andiamo un po' più spediti sulle i temi e perché tutto questo beh le vulnerabilità crescono di anno in anno con una scala non lineare quindi stanno salendo almeno con una scala quadratica forse anche esponenziale lo vedremo col tempo i casi di zero dei exploit stanno crescendo ok ci sono sempre più zero dei vulnerabilities quindi viene scoperto un problema e ci sono già gli attaccanti questo sempre più frequente non solo il software che costruiamo è sempre più dipendente dagli altri non è più come era negli anni 90 si scrive a C++ avevi le tue librerie sorgenti le compravi due volte l'anno una volta l'anno te le aggiornavano e finita lì adesso è questo mondo in continuo movimento come l'acqua non è mai stabile ci sono delle statistiche appunto su quante sono le dipendenze medie per un progetto dotnet è forse la piattaforma meno dipendente per cui un'applicazione media ne ha un'ottantina di dipendenze ma altre sono molto più profonde voi conoscete bene molti di voi la situazione del mondo javascript ce ne ha moltissime di più e in particolare open source e quindi con tutti i tipi di attacchi a cui possono essere soggette dipendenze appunto altre statistiche potrei presentarvi ulteriori dati su quanto sia vulnerabile tutto quello che usate il tempo che ci si mette a patcharlo il tempo che ci si mette ad avere una patch siamo sempre più dipendenti a librerie terze parti i numeri sono chiari e inequivocabili e crescono a un tasso velocissimo ecco il discorso la pressione ambientale abbiamo parlato tanto di librerie da patchare ma non è che le piattaforme i nostri stack di runtime siano tanto più teneri il più lento se vogliamo è dotnet che ti dà una nuova versione patchata ogni sei settimane devo dire ogni sei settimane devi ricostruire i tuoi le tue docker images sulla nuova base altri sono ancora più veloci appunto il node.js io ho fatto i calcoli che node.14 hanno fatto una patch ogni 25 giorni chrome te lo cambia ogni due settimane volente o no lente e quindi tu devi adeguarti i tuoi test per esempio ogni c'è la rottura di scatola una volta al mese mi tocca aggiornare i test per chrome perché c'è una nuova major version di chrome e avanti di questo passo la pressione ambientale ci cambia come dobbiamo fare il software e di conseguenza questa bellissima ruby gold machine incredible machine abbiamo appunto che il software decade naturalmente è a scadenza e non si può più parlare di debito tecnico attenzione perché il debito tecnico comporta sempre un atto volontario il debito tecnico è dovrei fare una cosa bene non la faccio bene per guadagnare tempo per varie ragioni ma so che lo sto facendo ok mentre invece qua stiamo parlando di inflazione tecnica tu non fai nulla e il tuo software improvvisamente ha problemi uno due tre dieci problemi e tu non hai fatto nulla è passato del tempo ma l'ecosistema attorno a te è cambiato e tu o ti adegui o sei nei guai ed ecco che a me piace parlare di inflazione tecnica per questa ragione e non è un fenomeno identificato da poco perché se ne cominciò a parlare negli anni settanta questo signore qua il professor Lehman ha scritto che un sistema di tipo E che è in pratica tutte le applicazioni business che noi scriviamo ok non delle cose puramente algoritmiche queste cose qua deve essere continuamente adattato o sarà sempre meno soddisfacente e noi lo stiamo verificando 50 anni dopo tac eccoci qua quindi noi dobbiamo agire per ripristinare il valore del nostro software un paio di suggerimenti politiche che sto cercando anche di implementare all'interno della mia azienda minimizzare il numero delle versioni di piattaforma quindi quella corrente quella su cui sto già migrando sempre stargli dietro continuamente non ci devono essere warning non ci devono essere issue di sicurezza azzerare tutte quelle cose lì non che quando uno compila si trova mille warning e avere le pipeline di per pubblicare rapidamente le patch in produzione di cui abbiamo già un po' descritto le possibilità non vi preoccupate perché abbiamo quasi finito le slide lo so che non ci crederete ma le abbiamo quasi finite in sintesi dovete preoccuparvi della sicurezza non potete farne a meno gli strumenti ci sono ce ne sono di economici ce ne sono di cari gli strumenti ci sono si chiamano SAST SIA software composition analysis eccetera eccetera gli strumenti ci sono basta usarli inserirli nel nostro pipeline dobbiamo continuare ad adeguare le nostre piattaforme e tutto quello da cui dipende il nostro software se no le cose vanno a rompersi mettere in piedi le pipeline e questi investimenti non è economico ma è necessario è necessario come le cinture di sicurezza è necessario come tutte le cose che noi oggi come oggi siamo abituati la 626 non l'ha scritta nessuno per il mondo IT ma de facto c'è ce l'abbiamo una 626 implicita in questi cambiamenti ambientali altrimenti cominciate ad aggiornare il vostro curriculum il vostro profilo linkedin e cominciate a pensare di cambiare azienda compiti per casa provate a pensare a fare delle discussioni su come va allocato il budget perché adesso non si può più pensare a un budget ripartito tra nuove funzionalità debito tecnico e basta no avete nuove funzionalità debito tecnico e inflazione dovete dedicare una percentuale del tempo solo a tenersi aggiornati sulle cose e non è detto che abbiate il tempo di oh ma questo lo farò con il prossimo rilascio no perché c'è una vulnerabilità giorni zero che vi sta martellando quindi deve essere predisposto in modo continuo adottate questi strumenti appunto di SAST e SCA ho l'ho ripetuto alla nausea nessun warning nessuna issue sonar cube per esempio vi permettete sonar cube sonar cloud vi permettete le tracce di tutte le issue che ci sono come sono state corrette come sono state indirizzate da chi e perché gli strumenti ci sono non sono neanche tutti molto cari alcuni sono carissimi ma è un'altra cosa e appena c'è un problema la build si deve rompere e non dovete essere in grado di rilasciare in produzione la gente deve svegliarsi bene signori e signore con questo vi ringrazio ho concluso le mie discussioni le mie presentazioni ci sono un quattro slide con tutti i link che troverete poi nella presentazione che pubblicherò su slide share slide share sì ed eccomi qua per voi ci non so se qualcuno ha domande curiosità approfondimenti come sempre non fate i timidi vi approfittate di chiedere a Giulio se avete dubbi domande opere omissioni anche su cose anche su cose collaterali se se magari c'è qualche diramazione dell'argomento di stasera ma senti una cosa ma lì da te nelle nell'area irlandese dove diciamo che tutte le software house più importanti diciamo ci sono i grandi vendor come la cultura la cultura devops rispetto all'Italia perché ovviamente l'Italia è una cosa drammatica perché sostanzialmente tipicamente l'azienda italiana non è capace di non è capace di valutare i costi di una vera pratica nella corretta pratica devops lì da te com'è? beh la fatica è dappertutto alcuni argomenti sono più convincenti altri argomenti sono meno convincenti questo è è normale l'automazione nel senso della build è qualcosa che bene o male ha permeato il la pratica ma perché è una cosa che più o meno gli sviluppatori danno per scontato il di più è un qualcosa che tante volte arriva per diktat adesso poi la sicurezza budget quasi infinito assumono gente e quindi arrivano queste nuove policy questi nuovi regolamenti da parte della sicurezza e la gente non può fare altro che adeguarsi quello che vedo è ci sono tante realtà diverse le start up o comunque le aziende nate da poco su un prodotto chiaramente partono in quarta con un'automazione spinta a tutti i livelli e cercano sempre cercano sempre persone e cose come sempre sono delle cose fatte in fretta e furia fatte alla meno peggio come sempre nell'ambito delle start up dove è importante il tempismo ok poi poi ci penseremo io sono un po' in un'azienda all'opposto se dovete pensare che la mia è una fortune 500 diciamo che un po' come la un po' come le generali il mondo assicurativo è generalmente più lento perché il mondo assicurativo ragiona in tempi diversi ragiona con i tempi del dei decenni di suo anche se piano piano si stanno si stanno svegliando fuori questo è molto divertente diciamo che per esempio ho i miei i miei capi che sono anni che predicano piano piano un passettino alla volta un pezzettino alla volta la cosa sta prendendo piede a livello di leadership a livello appunto di come definirli cio e cose del genere prendono gradualmente coscienza della cosa della necessità di essere meno waterfall di avere dei processi più perché quando sono in italiano mi viene tutto l'inglese quando sono in inglese mi viene tutto in italiano dei processi più più fluidi è una cosa incredibile dei processi più fluidi più naturali ma allo stesso tempo vorrebbero che tutti avessero dei processi software al meglio e invece vedo che all'interno di una realtà IT dove ciò di tutto ciò quelli del gruppetto di punta che mi fanno le cose bellissime tutto automatizzato tutto controllato tutto monitorato tutto bellissimo e poi c'ho quelli che hanno scritto l'applicazione winform .net 20 anni fa tra i 20 e 15 anni fa e che faticano eh ma io ho bisogno di generare il mio MSI calmo no non è vero siamo nel 2022 non ne hai più bisogno devi anche non solo lavorare al solo livello della dell'automazione o del monitoraggio devi collaborare anche sul piano del ridisegno delle applicazioni per portarle a un livello tale che si possano adottare i nuovi strumenti non ti dico la roba mainframe col COBOL eppure eppure anche per quelle piattaforme esistono gli strumenti ce ne sono sia di Broadcom che di IBM IBM scusa ci sono gli strumenti oggi come oggi questi fornitori ti dicono vuoi sviluppare COBOL prenditi Viso Studio Code prenditi il mio plugin poi ti do tutte queste belle ambienti che girano sulla base di Kubernetes quindi tu il mainframe il compilatore COBOL ce li hai come docker container e te li lanci lì ti fai le tue pipeline con quello che vuoi e poi alla fine farai il deployment sul buon vecchio mainframe questa è la proposizione dei venditori di software e hardware a livello mainframe oggi come oggi ci sta assistendo una convergenza degli strumenti per lo sviluppo e il fatto di avere una pipeline è dato per scontato altra cosa è poi che la pipeline sia fatta bene adesso siamo già a livello che sia fatta bene che ci sia controllo di qualità che i test siano ben fatti che i test coprono i diversi livelli sia a livello di unità che a livello di integrazione che a livello di system e avanti di questo passo le scansioni di sicurezza di un tipo di due tipi di tre tipi e purtroppo questo è ancora tutto molto facile finché lo fai con linguaggi tradizionali diciamo così dove tradizionale non è intendo il il c intendo tradizionale nel senso un linguaggio di programmazione con il suo bel interprete con il suo bel compilatore con il suo bel runtime molte aziende stanno sempre più adottando queste cose ibride che hanno un vantaggio di tipo non lo so microsoft c'è la power platform salesforce c'è il suo ambiente di sviluppo che però siccome nascono per l'utente finale per il ragioniere che prima usava excel e adesso si fa le sue automazioncine con con la power platform perché fa tutto con la gui poi quella roba lì non ci riesci a gestire un ciclo di vita e questo è la uno dei drammi a cui assisto cioè salesforce e e m365 sono forse un po' e power platform per microsoft sono un po' quelli un po' più avanti in termini di avere un ciclo di vita del software gestibile all'esterno della della piattaforma ma ancora ancora tanto difficile cioè fai dei grossi import export della piattaforma in rappresentazioni assurde da json a xml le tarocchi e quello il tuo pacchetto da ridistribuire sento ce l'ho ben detto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti